Il nuovo comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, il colonnello Francesco Rizzo, ha incontrato ieri, mercoledì 19 settembre, i giornalisti per presentarsi ufficialmente. Credo molto nei servizi di controllo del territorio e di prossimità. Ovviamente darò il giusto valore alle attività investigative e di contrasto, però se lei mi chiede la priorità, sicuramente la vicinanza alle problematiche che i cittadini di Torino e provincia segnaleranno fin da subito. Ho partecipato già a dei comitati provinciali e ho trovato anche lì una sinergia veramente molto attiva e molto efficace. Non sono preoccupato di comandare il Comando Provinciale di Torino, sono sicuramente con i piedi per terra per a 360 gradi osservare. Mi ha fatto un'ottima impressione. Ero preoccupato per il clima, però devo dire la verità. Questo settembre mi ha sorpreso positivamente perché ho trovato delle condizioni climatiche più favorevoli di quelle che ho lasciato a Roma pochi giorni prima di arrivare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.